Con 17.390 voti, pari al 69,92% di preferenze, Ottavio De Martinis viene rieletto sindaco del Comune di Montesilvano. Al suo sfidante, Fabrizio D'Addazio, gli elettori hanno accordato 7.712 voti, con una percentuale di gradimento equivalente al 30,08%. Nel Comune Adriatico sono stati 26.412 votanti, il 59,37% dei 44.484 elettori aventi diritto, 507 le schede nulle, 259 le bianche e 4 quelle contestate. E dunque, nel segreto dell'urna, i montesilvanesi hanno riconfermato il sindaco uscente e la guida del nuovo governo cittadino, che De Martinis dovrà formare facendo affidamento su una maggioranza di 17 consigliari eletti, tra le quattro liste della sua coalizione, composta da Fratelli d'Italia, Forza Italia, la civica Montesilvano Sceglie e Lega. Nelle fila dell'opposizione, 7 consigliari eletti, compreso il candidato sindaco sconfitto, Fabrizio D'Addazio, sostenuto da una coalizione di quattro liste, composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, la civica Fabrizio D'Addazio Sindaco e Alleanza Verdi Sinistra. Sul podio delle liste più votate a Montesilvano, al primo posto c'è Fratelli d'Italia con il 27,53%, seguita da Forza Italia al 19,19%, Montesilvano Sceglie con il 17,71%, Partito Democratico con il 14,91%, Lega Salvini al 7,06%, Movimento 5 Stelle al 6,2%, D'Addazio Sindaco con il 4,53% e Alleanza Verdi Sinistra con il 2,87%. Alla luce delle preferenze accordate dagli elettori votanti e consiglieri candidati, il nuovo Consiglio Comunale di Montesilvano risulterà dunque così composto. Sui banchi della maggioranza, capitanata dal sindaco Ottavio De Martinis, siederanno 17 consiglieri, 7 i seggi attribuiti a Fratelli d'Italia con Francesco Di Pasquale che con 8.391 voti risulta il primo fra gli eletti, Lino Ruggero, Damiana Rossi, Walter Cozzi, Pasquale Cordoma, Simona Delvinaccio e Valentina Di Felice. 5 seggi a Forza Italia con Paolo Cigli, Alessandro Pompei, Feliciano D'Ignazio, Serena Silli e Simona Ciavatti. 4 seggi alla lista Montesilvano Sceglie con Giuseppe Manganiello, Adriano Tocco, Corina Sandias e Luca Metta. Infine un seggio alla Lega che elegge Ernesto De Vincentis. Sui banchi dell'opposizione altri 6 consiglieri eletti che diventano 7 con il candidato sindaco Fabrizio D'Addazio che entra di diritto nell'assise civica. Al Partito Democratico, che conferma la sua leadership nella coalizione di centro-sinistra, 4 seggi con Pietro Gabriele, il più votato tra i consiglieri di minoranza con 4.176 voti, seguito da Stefano Girosante, Manuela Natale e Romina Di Costanzo. Un seggio al Movimento 5 Stelle che elegge Luca Verrocchio e un altro seggio alla lista civica Fabrizio D'Addazio Sindaco con Francesca Giuliani in consiglio. Resta invece a bocca asciutta la lista Alleanza Verdi-Sinistra che con 718 preferenze accordate dagli elettori non riesce ad eleggere alcun candidato. 24 in tutto i nuovi consiglieri eletti, 9 donne e 15 uomini, più il sindaco Ottavio De Martinis, al quale ora spetterà il compito di formare la nuova giunta per dare continuità al suo precedente mandato. Queste le dichiarazioni a caldo del primo cittadino dopo la sua rielezione. Oggi non solo la fiducia è stata rinnovata, ma è stata rinnovata anche e soprattutto per l'ottimo lavoro che è stato fatto da me come sindaco e dalla collezione di centrodestra, soprattutto in un periodo in cui la nostra vita è stata stravolta dal Covid. Oggi la nostra Montesilvano è sotto gli occhi di tutti, non è la città dormitorio di cui si parlava, non è la città spenta, ma è una città oltremodo viva, attrattiva da un punto di vista turistico. Tanto c'è da fare, tanto abbiamo fatto e sono contentissimo di poter continuare un percorso, come ho detto, in queste settimane di campagna elettorale.